Sono 2.668 di cui ben 153 minori non accompagnati i profughi ucraini presenti in provincia di Padova. 410 risiedono nei CAS, centri accoglienza straordinaria gestiti dalla prefettura e 78 nel lab regionale di Monselice. Sono i dati aggiornati all'ultima riunione con il prefetto Raffaele Grassi, i vertici delle forze dell'ordine, rappresentanti della provincia, del comune di Padova, del Consolato Ucraino, della ULS-6, della Caritas Diocesana e del Centro Servizi Volontariato, più il sindaco di Monselice, Giorgia Bedin. Nel corso del vertice è stata annunciata l'attivazione di una piattaforma informatica perché i profughi possano richiedere al governo il contributo di sostentamento per le persone in fuga dalla guerra. Si tratta di un aiuto economico di primo sostegno a chi è arrivato nel nostro paese. Ne ha diritto chi ha presentato domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea e non usufruisce di forme di accoglienza a carico dello Stato italiano.